Le immagini che stiamo vedendo, dottor Adamo, mostrano questo reparto nuovo dell'ospedale Magalini in Villa Franca che sta per iniziare la sua attività, la sua vita reale anche sotto profilo operatorio. Ci vuole dire un po' quello che stiamo vedendo? Vediamo anche i suoi collaboratori intanto. L'ospedale Magalini ha avuto, come tutti sanno, un grosso problema nel 2002, mi pare. Sì, sì, nel 2002, lontano del 2002 ormai, quel doloso incendio. Quel doloso incendio e sta ricominciando piano piano a prendere una funzione che gli spetta. Naturalmente l'attività viene integrata con sempre più specialità. Tra quelle che stanno per iniziare in maniera sostanziale c'è la gastroenterologia e l'endoscopia digestiva. Essendo questo un punto chiave anche come bacino di utenza di popolazione, credo che meriti avere una struttura che possa garantire un servizio di gatto senza ulteriori spostamenti. Io credo che l'ospedale deve essere un punto, una rete ospedaliera deve avere una certa validità se è collegata con il territorio. E noi dobbiamo, soprattutto, più che il numero delle elegenze, è importante avere un collegamento con il territorio che ci circonda. E questo è l'obiettivo. Noi siamo pronti a rispondere a tutte le richieste dei medici di medicina generale, siamo pronti a supportare qualsiasi iniziativa che possa far crescere la cultura. Credo che l'amministrazione ci possa venire incontro in questa fase. Quello che voglio sottolineare è che la buona medicina si può fare anche nei centri non enormi, ma anche nei centri più piccoli si può ottenere dei risultati in termini di qualità di prestazione che sono praticamente sovrapponibili ai grossi centri. In più c'è, ecco, questo lo dico prodomomea, ma certamente c'è il vantaggio di avere degli ambienti meno asettici, ecco, molto più, con una componente più familiare. Tante volte il paziente viene più volentieri, meno ospedale piccolo. La famosa umanizzazione di cui tanto si parla. Esattamente, esattamente. La famosa umanizzazione di cui tanto si parla.